Un saluto a tutti amici di Aitech Italia, secondo tipo di cuffie wireless che recensiamo, questa volta sono dell'Ampau, marca che vi avevo presentato l'altra volta con questo supporto per smartphone da mettere in macchina o comunque in qualsiasi altro posto, la recensione la trovate nel canale. Queste cuffie si chiamano Wolverine, sono veramente interessanti, andiamole a scoprire insieme. Custodia Veramente minimale per questo dispositivo, per queste cuffie wireless, leggiamo queste caratteristiche che ci vengono riportate, ci dicono che resistono a 300 ore in modalità standby, 10 metri di raggio wireless per la connessione con lo smartphone, 8 ore di conversazione, 8 ore di musica e 2 ore solo per ricaricarle. Andiamo ad aprire, confezione come dicevo veramente minimale, si trovano le cuffie che tra un po' andremo a scoprire insieme e null'altro se non. Sono gli adattatori per i padiglioni auricolari più esigenti che vi apro giusto per far vedere, eccoli qui, ci sono questi qui che vanno un po' a bloccarsi nell'orecchio per non scivolare, questi sono i tappini in silicone per tutti i padiglioni appunto, e il caricabatterie USB 2.0, oltre al libretto delle istruzioni, però non servirà perché sarà veramente molto semplice utilizzare queste cuffie. Andiamole un po' a vedere insieme, ve le avevo già fatte vedere poco fa, ma ve le avvicino un po' per mostrarvele meglio. Eccole qui, sotto l'aspetto del design possono piacere e possono non piacere, però sono molto piccole per essere wireless, anche perché la cosa interessante è che la batteria riposta al loro interno. Come vedete per essere ricaricate basta inserire il cavetto USB nella cuffia destra, e ovviamente l'altra estremità alla presa di corrente, e la ricarica avverrà in appunto due ore. Il tappino è un po' difficoltoso da chiudere, e vabbè, magari ci pensiamo dopo. Queste sono appunto le cuffie, che si chiamano wall wearing, in questo modello, qui c'è una parte un po' satinata sul retro che onestamente mi piace molto, Il telecomandino si trova sotto la cuffia destra, abbiamo il microfono sul retro, di fianco alla scritta MPOW, e tasto di accensione e di controllo, tasto di aumento volume e cambio canzone, e tasto di diminuzione del volume, e ritorno indietro di canzone, oltre che a un LED di notifica. Purtroppo è tutto nero il telecomando e la fotocamera fa fatica a mettere a fuoco. Come si usano? Essenzialmente è molto semplice, basta tenere premuto il tasto centrale, come vedete lampeggerà il LED, perché in questo momento sta cercando un dispositivo a cui connettersi, lampeggia il LED bianco e arancione, e ci viene notificato tramite l'auricolare quando appunto sta cercando un dispositivo con la parola pairing, che significa appunto connessione, e dal dispositivo bluetooth, quindi dallo smartphone, basterà recarsi nelle impostazioni del bluetooth e associare le cuffie, saranno completamente operative, sia per le chiamate che per la musica. Come si sentono? Si sentono discretamente bene, gli alti non sono poi così tanto risoluti, però i bassi sono discreti, e poi ovviamente tutto si può settare grazie ai vari equalizzatori, però da una scala da 1 a 10 gli darei un 7, sono carine, sono abbastanza ergonomiche, sono molto comode, secondo me quando ci danno fastidio il filo, proprio oggi ci stavo pensando, stavo camminando per strada con le cuffie, e mi si impigliava il cavo sempre nel giubbotto, peccato non mi ero portato queste dietro, altrimenti avrei risolto quel problema. Cuffie wireless che non so a chi possono interessare, a chi meno, sicuramente gli sportivi, l'autonomia di queste Wolverine si aggira intorno alle 7-8 ore, 8 ore comunque sono scarse, non sono proprio reali, se comunque la si ascolta di continuo la musica, se invece si continua a sconnettere e a connettere la cuffia, forse dura anche leggermente meno, però comunque è un'autonomia buona, nonostante la batteria sia soltanto in questa cuffia destra. Per queste Wolverine dell'Unpower è veramente tutto, è un'azienda che ci sta comunque fornendo dei prodotti per essere conosciuta in Italia, quindi la ringraziamo per averci fornito questi prodotti, noi diamo un voto a queste cuffie, come facciamo per ogni prodotto, e su una scala da 1 a 10, confrontandola anche con le cuffie di Wear che vi avevamo presentato l'altra volta, una start up italiana, possiamo dare un 7-7,5, perché comunque sono molto belle sotto l'aspetto, dei materiali e funzionano molto bene. Quindi per queste Wolverine ancora una volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti da Hitec Italia, mi raccomando seguiteci su tutti i social che trovate nella descrizione, soprattutto Telegram, che mi sto veramente divertendo a utilizzare, perché si crea un contatto diretto con voi e mi piace molto. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!